D'accordo. Eccoci. Ciao Francesca. Ciao Aldo. Rieccoci perché chi ci ha già seguito stamattina sa che abbiamo provato a fare una diretta Instagram con poco successo ma dal punto di vista tecnologico. Noi le cose da dire ce le avevamo ma la tecnologia oggi ha deciso di rimarci più che fino contro. Esatto. Allora benvenuti ad Aperitivo Critico. Per diciamo mantenere il nome saldo fate che questo video vederlo o prima di pranzo o prima di cena. Noi lo stiamo registrando a merenda. Se voi lo vedete prima di questi due momenti non dobbiamo cambiare. C'è comunque un elemento di snack. Esatto. Importante che mangiate o bevete mentre guardate questo video. Allora è la puntata numero due. Abbiamo iniziato un discorso nella puntata precedente legato in qualche modo al linguaggio del corpo, alla fotografia e all'immagine che la fotografia cattura e restituisce a chi quell'immagine poi la guarderà. La scorsa volta abbiamo parlato di una fotografia un po' controversa che ha fatto molto discutere. La discussione è stata molto partecipata. Se volete andarla a recuperare è caricata sui GTV di Pangramma. Quindi la puntata è lì. L'altra volta quindi è stata una puntata un po' diciamo all'insegna di una critica se correggimi se sbaglio Aldo un po' più negativa in qualche modo. Si senta un po' più. Ok. Comunque abbiamo fatto un ragionamento alla fine del quale quella foto non ci ha convinto. Esatto. Oggi invece vorremmo provare a portare avanti tutto quello che riguarda il corpo, un'accezione però positiva. Quindi sia della body positivity e sia proprio alla fine chi è che la fa questa body positivity. Un'immagine che veicola un messaggio buono, no? Esatto, esatto. In tutti e due i casi analizziamo delle foto di fotografi e fotografe che hanno voluto raccontare dei corpi non conformi. L'altra volta nell'immagine, secondo me, era troppo importante la presenza dell'ego della fotografa. Io metto questo discrimine alle foto che guardo, soprattutto quando si parla di utilizzare alcune categorie meno rappresentate all'interno dell'immaginario fotografico. Se la foto parla del fotografo, è possibile che sia una di quelle foto di freak, per cui io vedo una cosa che potrebbe ritornarmi un gran consenso, numero di like, o anche solo una grande discussione per cui il mio ego viene in qualche modo coccolato dal ritorno d'immagine. Sì, un po' come se solo il fotografo fosse in grado di intercettare quella cosa lì, non un po' come se fosse un esclusivo. Sì, sì, sì. Quando invece il verso è rivolto verso un possibile pubblico, un fruitore, e quindi il fotografo in realtà interpreta un soggetto affinché quell'immagine possa essere fruibile, possa raccontare qualcosa a un numero di persone recettive, perché in questo caso serve una sensibilità sintonizzata, ecco, su questo argomento. In quel caso la foto per me inizia ad acquisire valore e interesse. Sì, c'è anche da dire che questa sensibilità si può costruire un pochettino nel tempo, quindi... E chiaramente è uno sforzo culturale, è anche uscire senza fare grandi passi dalla propria zona di comfort, poi ci sono delle persone che per lavoro, cultura, letture, sono meglio predisposte verso certe tematiche e altre meno. Sì, lo vogliamo fare è provare a dare questi, diciamo, piccoli aiuti nella lettura dell'immagine, cioè non sono lezioni a 100%, e più provare a dare delle chiavi di lettura a un'immagine che magari, se ti capaita sotto gli occhi, non presti tanta particolare attenzione. Provare a capirne un po' di più. Giusto per dire oggi la fotografia dov'è rispetto a certe tematiche. Ok. Quindi ci facciamo quella prima foto? Prima volevo solo circoscrivere il tema di Body Positivity per chi non lo conoscesse. Il movimento della Body Positivity dice che, oltre a dei canoni standard e normati di bellezza e salute, esistono altre tipologie di corpo che hanno tutto il diritto di venire rispettate e rappresentate. Il movimento Body Positivity non è un movimento rivolto alle persone che esprimono un giudizio, ma è rivolto a chi possiede un corpo non conforme nel sentirsi libero di avere quel corpo senza subire in maniera negativa il giudizio altrui. Quindi, tu puoi continuare a giudicarmi, ma tu non sei in diritto di farmi sentire sbagliato. Perché io non mi sento sbagliato nella forma che ho. Forma nel senso inteso proprio di spazio fisico in cui io vivo, che è il mio corpo. Sì, sì, sì. E tutti i contenuti che sposano questa filosofia. In generale, noi ci sentiamo di sottoscrivere. A moglie. Perché non ce n'è mai abbastanza, in realtà. Proprio perché si parla di standard. Quanti standard ci sono? Quanti potremmo crearne? Quanti, cioè... Più che altro, una domanda che mi sono spesso posto è quale sia il limite dello standard. Nel senso, oggi è chiaro che il modello fitness sia lo standard di bellezza maggiormente condiviso in termini di comunicazione. Negli anni 80, invece, era lo standard ipermuscoloso per l'uomo. C'erano i culturisti, c'era Schwarzenegger ed era la maggiorata per le donne. Però negli anni 70 non era così. Quindi ogni epoca ha uno standard culturale. Il problema è definire il limite. Cioè, in che limite tu sei fitness e qual è la persona dopo di te che non lo è più? E quindi queste macro-categorie in realtà sono più, appunto, degli archetipi che è una categoria in cui entrare o non rientrare. Sì. Dopodiché io ho conosciuto modelli e modelle in ambito moda che avevano delle problematiche di accettazione del proprio corpo che da noi venivano viste forse in maniera erroneamente ironica dicendo ma cosa sei di una bellezza devastante eppure hanno il diritto di sentirsi inadeguati o avere delle problematiche col proprio corpo perché è una percezione del sé non è una cosa che ti viene dato il permesso di sentirti o non sentirti a tuo agio. Sì, però c'è nel senso in questa percezione del sé influenza moltissimo quello che ricevi dell'esterno. Cioè, per io dopo bambino, c'è infanzia e adolescenza lì c'è proprio un imprinting che ti viene dato da quello che ti dicono a danza piuttosto che le pubblicità, eccetera, eccetera per cui cresci con delle idee nella tua testa. Il potere delle immagini, cioè, ritornando alla fotografia deve essere quello, cioè, che, non so come dire la libertà di essere quello che ti pare, no? Di metterti davanti uno scenario il più ampio possibile. Sì, perché il primo che si espone o la prima che si espone diventa un bersaglio feroce di critica al centesimo e normalità cioè, si instaura una nuova normalità per cui oggi ci sono delle persone che vivono un ambiente privilegiato rispetto a quello di dieci anni fa fra dieci anni sarà la stessa cosa. Sì, 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 assolutamente. Sì, e niente Adolescenti di tutto il mondo questa puntata è per voi. È per voi. Sappiate che se ne può uscire. Esatto, dopo il mondo sarà bello. O comunque l'adolescenza rimane sempre una merda. Vabbè, però... Proviamo. Allora. Dunque. Ok. Iniziamo da un brevissimo excursus sulla rappresentazione del diverso. Utilizzo la parola diverso nell'accezione di freak prima di arrivare al termine attuale che è non conforme. Perché fino a qualche tempo fa il diverso era diverso e punto. Nei tardi anni 50 ho portato questa fotografia di Ouija. Ouija è un fotografo principalmente si occupava di scene del crimine e quindi fotografia poliziesca, si dirà, chi lo sa. Ma questa sua foto è iconica, rappresenta due donne dell'alta società che escono da teatro. A fianco a loro, alla loro sinistra, quindi alla destra dell'immagine, c'è una senza tetto. Questa senza tetto è grottesca, ha un'espressione quasi rancorosa o comunque è un'espressione diffidente e l'immagine gioca tutto sul contrasto. Quindi il contrasto tra persone benestanti e il freak che guarda al benessere come qualcosa verso cui essere arrabbiati, probabilmente. E' anche possibile. Ho deciso di aprire questa sessione fotografica con questa foto. Cioè la Boti Positivity qua dove la collocheresti come concetto? No, si parla solo di rappresentazione fotografica e non conforme. Per cui fino a un certo punto della storia il freak era l'elemento che o generava contrapposizione, come in questo caso, quindi una contraddizione semantica, ricchezza contro povertà, povertà brutta, ricchezza bella. oppure come seduzione del fotografo o circo dei freak. C'erano senza alcun problema tutte le cartoline pubblicitarie dei circhi dei freak da fine ottocento in poi rappresentavano tutte le malformità del corpo come qualcosa per cui pagare e andare a vedere per soddisfare una curiosità morbosa. Nella foto successiva, invece, si approda circa dieci anni dopo al lavoro di Diana Arbus. Non mi soffermo tanto su questi fotografi che sono un po' le colonne portanti della fotografia dagli anni 50 in poi. C'è tantissima letteratura anche online su cui documentarsi, quindi preferisco magari spendere due parole in più sui contemporanei. Diana Arbus, una fotografa, moglie di un fotografo, che per la prima volta fotografa tutto quello che è freak in un modo in cui non era mai stato fotografato prima. Vedete, in questo caso ha fotografato due signore con la sindrome di Down che vengono rappresentate di fronte all'obiettivo. Nella foto precedente il soggetto non era consapevole di essere ritratto. Questa è una grande svolta fotografica. Quindi qua il soggetto posa, guarda diretto in camera e sorride. Quindi sta annunciando al mondo che non è un invisibile, che è un visibile e che addirittura cerca di comunicare. È un principio di comunicazione. Mentre nell'altra foto noi siamo dei guardoni esterni alla foto, qua invece ci viene richiesto un coinvolgimento. Ok. Nella foto successiva... Non è questa. Che non era quella, adesso... C'è il lavoro... È bello. In fondo in fondo, secondo me, sarà... No, non c'è. No. C'è il lavoro di Nan Goldin. Non l'ho vista nella scorsa. Ok, ma ve lo racconto. Nan Goldin è una fotografa che a cavallo degli anni 70-80 racconta principalmente due cose. La sottocultura omosessuale rappresentando i suoi amici travestiti, i suoi amici omosessuali dal punto di vista di un'amica. Quindi aggiunge all'empatia della... Eccola qua. Aggiunge all'empatia di Diana Arbus aggiunge l'intimità. E quindi entra in un mondo. Diana Arbus lo fotografava da fuori. Lei invece lo fotografa da dentro. E per quanto riguarda appunto la positivity lo include senza giudizio perché sono amici e quindi non c'è giudizio. E in maniera invece molto sensibile racconta negli anni 80 anche se non c'entra con la body positivity la sua dipendenza sessuale. Nel 86 mi sembra pubblica The Ballad of Sexual Dependency in cui lei racconta la propria dipendenza sessuale verso un uomo. E questo è straordinario per essere una donna negli anni 80 di un appartenente comunque a un gruppo di sottocultura. Fino ad allora la fotografia era freak. Non era inclusiva, non era body positive. La prima fotografa che invece vi propongo è che secondo me ha fatto un lavoro partendo da una grande diatriba della definizione di bellezza e il giovane vecchio. Quindi giovane come bello, vecchio come brutto. Anastasia Pottinger prende i corpi di persone molto anziane, so che ha fotografato anche dei centenari, quindi molto anziani, li fotografa con una luce sagomante e fotografa la mollezza dei loro corpi con un intento poetico quasi a renderlo un paesaggio. Fa quello che in fotografia si chiama bodyscape, cioè riprende il corpo talmente da vicino e con una luce molto sagomante che tutta la texture della pelle diventa un paesaggio, quasi come se fosse un canyon. Io trovo questo lavoro rispetto a quello che abbiamo visto della volta scorsa in cui c'era comunque una luce molto modellante e pittorica. Sì, esatto. Questo lavoro per me astrae il concetto di vecchio e lo trasforma in qualcosa di poetico, trasformando queste linee molli e cadenti in qualcosa che suggerisce una dolcezza, suggerisce una morbidezza anche nell'occhio di chi guarda. L'altro, secondo me, aveva un approccio un po' troppo estetico, nel voler creare dei volumi ed era un'estetica, come forse ho già detto la volta scorsa, didascalica, pornografica, non lasciava al messaggio lo spazio per passare. Era immediato che volesse far vedere grasso magro. Sì. Dopo Anastasia Pottinger è il turno di Ben Simpson. Ben Simpson qua rappresenta una donna in carne, ma il suo lavoro è rappresentare i corpi. I corpi tutti diversi, tutti con dignità di esistere e tutti che portano con sé un carattere diverso. lui unisce secondo me l'involucro esterno con la parte interna e è proprio un lavoro sensibilissimo. Mi commuove molto l'idea che racconti delle persone e contemporaneamente la loro personalità. quindi esce da tutti gli stereotipi vecchi del riprendiamoli tutti felici oppure riprendiamoli tutti pensosi che comunicano qualcosa. Riprende le persone così come sono in delle pose naturali e secondo me è un lavoro molto bello anche la foto successiva che è una foto che ho scelto perché è pericolosamente vicino al concetto di freak rappresenta ultrasensuale F2M quindi da uomo a donna scusate da donna a uomo truccato in maniera queer pesante mascherone e che potrebbe essere la seduzione di ogni fotografo perché rappresenta il freak in tutto e per tutto e qua però viene ripreso in maniera talmente schietta che secondo me decade un po' il così il giudizio sì anche il pericolo di fare cioè di rientrare dentro un cliché dentro un racconto già stereotipato in quel caso cioè che questo mi sembra di capire che è un po' per i fotografi proprio un qualcosa da evitare no? cioè cadere nel cliché e il rischio di mettere l'ego davanti al soggetto era veramente veramente alto questa cosa si capisce dal fatto che la foto spontanea cioè che la la posa l'atteggiamento è spontaneo? secondo me sul fatto che non ci sono degli artifici fotografici che avrebbero reso questa foto più ammiccante noi fotografi abbiamo la possibilità tramite luci post produzione di rendere una foto particolarmente seducente per chi la guarda questa foto non ricorre a questi spedienti si vede che è genuina e che l'intento non è non è così ego riferito ok forse in questo cioè in questo diciamo racconto qui in questa narrazione qui ha inciso molto immagino su sull'autenticità degli scatti su eh sì posso congelare questa questa domanda e la prendiamo dopo che secondo me è una foto che ha più ha più senso su questo argomento passo allora la foto successiva ok eh Shug o Shag McDaniel eh è la foto che ho messo oggi su Instagram e eh ho messo una doppia domanda per vedere un sondaggio per vedere che tipo di che tipo di emozione suscitasse e comunque eh il cento per cento eh dei miei follower ha detto che è sgraziata e confusa ehm io sinceramente non la vedo sgraziata e confusa però non posso mh eh per la quarantena andare a casa dei follower e picchiarli per questo ehm no dai però ho detto anche che era verosimile che lo fosse per certi versi dal punto di vista della costruzione fotografica la costruzione la costruzione e il riferimento a un'estetica e a una eh organizzazione a un apparecchiatura della foto potrebbe esserlo ok è chiaro che il mio ehm eh la mia prima eh emozione guardando una foto così è cercare di capire se sia una foto venuta a caso se sia una foto con un pensiero se sia una foto e basta ehm invece ehm la fotografa o il fotografo non so come eh definirlo in italiano perché eh si definisce un artista queer quindi rifiuta la categorizzazione nel genere maschile oppure femminile quindi eh non saprei come come renderlo in italiano eh vuole dare voce a tutta la comunità queer sovrappeso eh il suo pensiero è che eh all'interno dei vari stereotipi in cui veniamo incasellati a volte a forza eh c'è che quello della comunità queer sia comunque un genere di comunità più attento all'estetica più attento al fitness ehm insomma banalizzando sei gay quindi ti vesti bene quindi hai buon gusto ah in palestra sono tutti gay perché sono tutti belli e così via in realtà è una comunità che è rappresentativa al punto per cento del mondo e quindi saranno eh persone in sovrappeso persone magre persone alte persone basse e così via non è di certo l'aspetto fisico che definisce o ha un legame con l'orientamento è la società che ha bisogno di digerire le cose secondo degli standard quindi il primo il primo pezzettino è ok gay fisicato i gay sono bellissimi guardali wow c'è stata anche negli anni passati una comunicazione a riguardo sia dal punto di vista ironico che dal punto di vista che ne so della rappresentazione nei film nelle serie tv e quindi mi piace che ci sia qualcuno che esplori anche un ambito poco ehm eh poco poco sondato poco conosciuto e che mi racconti delle storie che altrimenti non conoscerei questa è una è un lavoro secondo me di gran pregio sì 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 no sono d'accordo io sul tema anche grassofobia consiglio di seguire belle di faccia che hanno sempre una critica eh non so puntuale e anche là dove non te l'aspetti ti scardinano un pensiero che è in tutte le menti veramente anche nella mia è pazzesco ma torniamo alle fotografie ma torniamo alle fotografie eh questo fotografo ehm Andrew Thomas Clifton a me è piaciuto perché fa un genere di fotografia che a me non piace valermi di genere glamour allora il genere glamour per ehm insomma la più parte degli scatti rappresenta donne belle insomma canonicamente belle canonicamente ehm normopeso mettiamola così però con delle curve sensate molto spesso in posizioni provocanti che fanno parte di uno squisito immaginario maschile eterosessuale difficilmente una donna si sentirebbe sexy appoggiata coi tacchi a un comone di fieno difficilmente una donna vestirebbe un trench con l'intimo a vista sotto in metropolitana questo confermo è un genere è un genere di foto piuttosto popolare è un genere di foto piuttosto facile eh il rappresentare la donna secondo un immaginario già preformato è anche facilissimo che cosa fa eh Andrew Thomas Clifton lui rappresenta solo donne afrodiscendenti ok non fa inclusione o esclusione di alcun tipo di fisicità nel senso che tutto fa brodo ma nel senso in tutte le sfumature della fisicità di una donna afrodiscendente trucco non trucco capelli afro capelli stirati c'è un mondo dietro la cultura afrodiscendente e le rappresenta in maniera sensuale esattamente come loro si vogliono rappresentare sensuali non è una rappresentazione di sensualità filtrata da un immaginario ok e mi piace che non si ricorra in queste fotografie eh a nessun espediente di photoshop o di luce che in qualche modo ingentilisca o ammicchi a un immaginario già fatto eh le imperfezioni della pelle sono messe in mostre perfettamente visibili e le le donne non hanno nessun atteggiamento volto a nascondere quello che può essere un difetto fisico mi piace molto quel progetto però in photoshop piace la seconda volta che me lo nomini e poi dimmi tu quando lo vuoi per arrivare per arrivare adesso allora ehm per me da questo momento in poi è tutto nuovo perché io da qui in poi non ho sentito che ho la sua macchina quindi me lo godo oh questa fotografa che si chiama Pretti Piuc oppure Pretti Piucchi non so allora il sito è Pretti Piuc ma l'Instagram è Pretti Piucchi probabilmente Pretti Piucchi c'era già su Instagram e ha aggiunto una E ok eh lavora esclusivamente in snapshot quindi in fotografia istantanea eh significa punto e clicca senza una grande ricerca di eh inquadratura e eh e luce perché usa il flash diretto e utilizza il corpo allora a parte il fatto che chiunque si interessi di grafica o di eh siti vada a vedere il sito di Pretti Piucchi perché è un sito terribile sembra fatto nel 1995 da un web designer sotto acidi è la cosa più kitsch che io abbia mai visto abbia mai visto no ma abbia visto negli ultimi ma magari quel brutto talmente brutto che diventa bello no è un brutto fastidioso è un brutto proprio è un braccio di ferro vinto facile con brutto eh è proprio sotto acidi potenti il lavoro fotografico tanto che su Instagram è apprezzabile sul sito ti perde in questa violenza di immagini che è violenza di gif di eh world art una robaccia proprio ma in realtà ahimè ci sta molto bene eh lei utilizza il corpo in maniera schietta eh oggi nella nella diretta una ragazza eh mi ha chiesto io non riesco a capire questo tipo di foto questa e le due successive ehm perché il genere di fotografia schietto come l'ho definito io è anche un po' too much ehm a me invece piace tantissimo che eh innanzitutto questa fotografa utilizzi il corpo senza artifici e utilizzi alcune eh caratteristiche del corpo come per esempio le cicatrici per farci delle installazioni pop prima di fotografarle ora eh molto brevemente il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato da un potente e crescente uso di photoshop si è arrivato nei tardi anni eh nel 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 2010 2011 a definire addirittura degli stili di post-produzione eh la fotografia virava sempre di più verso l'immagine e meno verso la fotografia intesa come era intesa fino all'inizio degli anni 2000 cioè quello che fotografi e quello che c'è nell'immagine no perché eh le cose venivano aggiunte rimosse ehm le proporzioni del corpo venivano stravolte fino a dei livelli veramente ehm eh veramente invasivi nell'immagine la pelle eh si è partiti nel 2006 con i primi ritocchi della pelle a fare delle pelli di cera e di ceramica che erano inguardabili ma si è arrivati nell'arco di alcuni anni a definire degli stili di fotoritocco che sono eh assolutamente perfezionanti di tutto quello che è il flusso di lavoro di un fotoritoccatore l'immagine da bella diventa ineccepibile ecco come controcorrente rispetto a questo approccio alla fotografia che è tuttora valido si vede per esempio di tutto quel genere di fotografia che si chiama beauty quindi ehm fotografia di cosmetici di profumi eh fitness di ehm eh servizi e prodotti medici ehm shampoo prodotti per la cura del corpo in tutta questo gruppo di eh fotografie il fotoritocco è ancora molto invasivo però correcimi se sbaglio in quel campo lì andiamo più verso a una comunicazione di tipo pubblicitaria e quindi no? Cioè si apre un altro modo secondo me questo tipo di comunicazione ha infettato eh la percezione dell'immagine eh tanto che i nuovi iPhone hanno il filtro pelle automatico non hanno la possibilità di aggiungere un eh un filtro che ci fa la pelle più setosa eh automaticamente rimescolano i colori della pelle rendendola uniforme e più gradevole l'effetto di tinta esatto l'effetto di tinta quindi eh il movimento snapshot riprende dei eh degli approcci anni 70 80 della fotografia tra cui Nan Goldin quindi quello che c'è riprendo senza aggiungere rimuovere niente scusami Aldo ma contestualizzando questa è una foto di che anni? Questa è recente contemporanea questa è contemporanea oggi c'è un modo di intendere questo genere di fotografia applicato anche ad altre ad altre branche della fotografia qual è la moda che semplicemente eh mh bypassa la necessità di usare un programma di postproduzione sì sì sulla questa è la scherchezza da apprezzare e il movimento è un po' come ehm io mi rendo conto che alcuni generi fotografici necessitino di eh un'educazione all'immagine ecco perché quello che vorrei trasmettere proprio solo l'input a giudicare questa immagine come c'è forse qualcosa un po' di più da sapere sì oltre al mi piace non mi piace esatto esatto che ti turba vuol dire che c'è qualcosa che è stato fatto bene è chiaro è chiaro mi fermo provo a capire cosa c'è che mi dà fastidio esatto ci sta assolutamente all'interno del eh del body positivity c'è anche quello che si chiama l'abilismo cioè il l'inclusione eh delle persone con disabilità eh nella prossima volta ecco i spoiler che facciamo una prossima volta eh parliamo un po' meglio di cosa di come sia diventato molto inclusiva l'immagine che riguarda le persone con disabilità eh ma parlando invece di esercizio di stile eh porto l'esempio di questa fotografa irlandese Emer Gillespi Gillespai non so come si pronunci perché i nomi irlandesi si scrivono in un modo ma poi si pronunciano in tutt'altro eh che ha raccontato la ehm quotidianità di una mamma e della figlia con sindrome di Down eh io ho trovato il lavoro estremamente delicato perché nuovamente un lavoro fatto da una da da una fotografa con il freak a portata di mano poteva diventare una seduzione troppo forte nel fare la foto pruriginosa la foto un po' un po' con la malizia del fotografo che sa che alcune cose tirano parecchio riscuotono parecchi consensi invece questo un esempio ehm questa nella versione diciamo un po' più piaciona come sarebbe dovuta essere allora ehm in mille in mille modi ma ehm ti posso dire che ehm l'estrema rilassatezza e il senso di quotidianità della foto ok capito depotenzia il ehm il fatto che sia una bambina con sindrome di down sì ne toglie l'attenzione perché mentre se avesse fotografato una crisi se avesse fotografato un elemento fisico o comportamentale eh tipico dei delle persone con sindrome di down poteva diventare più vuoi oristico certo mentre invece ha rappresentato due momenti almeno un momento il momento del letto in una maniera talmente rilassata sì naturale che per me il il racconto della della bambina con sindrome di down e con la madre diventa secondario cioè è una bella foto mi trasmette altre emozioni ecco ehm secondo me una foto così eh per renderla veramente accattivante doveva far pena doveva far leva sulla pena la pena nei confronti della disabilità è una le menuzione normalmente quello che fanno le foto sull'argomento per ti dire oh poverina una cosa del genere esatto mentre invece in questa foto non mi viene proprio da dirlo perché mi racconta un'altra storia sì chiaro ok eh un altro tema riguardo alla body positivity e quello che riguarda il body hair nella fisicità femminile quindi i peli sulle gambe sulle braccia i baffetti e così via c'è questa performer che si chiama Sadie Loon è una performer berlinese che si fa portabandiera dell'idea che i peli sulle gambe e sotto le ascelle non la rendano meno femminile meno erotica meno oggetto desiderabile e appartenente alla femminilità non significa che se uno vuole radersi non può più perché radersi diventa lo specchio di una società patriarcale che vuole la donna in un certo modo se viene rasata ma se non ti senti bene se pensi che sia un vincolo si senti come decidi tu sì 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 è un po' come dire cioè se voglio portare reggiseno lo porto o non lo porto ma sono io che lo decido non è che sono antifemminista se mi metto un reggiseno o cose del genere la gonna nessuno può dirmi e truccati un po' ma se io voglio truccarmi perché mi sento bene mi trucco sì ok d'accordo il prossimo progetto è diviso in due il prossimo fotografo racconta due storie che non ho saputo scegliere quindi io ne ho messe tutte e due Jess Duggan è un fotografo F2M quindi che ha fatto la transizione da donna a uomo e che ha fatto due progetti il primo è questo una serie di foto con la madre a torso nudo rappresentando tutte le fasi della mastectomia e della transizione ora rappresentare una serie di eventi che succedono con una serie di foto con uguale luce uguale posa non è avanguardia pura non è la novità del secolo però ho trovato molto bello la partecipazione della madre e quindi aggiunge un aspetto emotivo a questa a quest'immagine e trovo molto bello che nella serie di foto lei parta col seno quindi in qualche modo pari alla madre il seno come rappresentazione archetipica della femminilità e poi arriva a un petto e anche a una conformazione del viso più vicina a quella maschile l'ho trovato intimo come progetto ammetto che non è il mio preferito tra quelli che ho visto però ecco mi ha dato un grande senso di intimità ma di questo fotografo il progetto che mi ha fatto sbarellare anche di invidia è stato il successivo Jess Dagan ha fotografato questa l'ho messa su Instagram e ho detto come mai questa foto ha un che di spettacolare che mi ha fatto uscire di melone e alcuni mi hanno detto ma sarà la maglietta che la camicia che la vorresti tanto la vorresti tanto il quadrettone no Jess Dagan ha fotografato delle persone che compiono la transizione in età avanzata io ho trovato bellissimo il suo modo di raccontarlo perché ha raccontato contemporaneamente due tipi di esclusione sociale il primo quello delle persone transessuali e secondo quello delle persone anziane quando unisci questa cosa tipo combo di Dragon Ball è devastante primo perché spiega nel progetto che c'è meno possibilità di manipolazione proprio del nostro fenotipo si chiama il nostro aspetto fisico quando sei in età avanzata è chiaro che quando sei giovane magari hai più possibilità anche chirurgicamente di intervenire per assomigliare all'immagine che hai di te quindi da una parte non sei stato la persona che avresti voluto fino a un certo momento della tua vita e poi devi lottare anche col tempo con l'età anagrafica e dall'altra tu stravolgi anche il tuo ruolo nella società e la società ti rimanderà un messaggio prima eri un uomo prima eri una donna adesso cambi esattamente che cosa vuoi fare a 60 anni una volta che hai fatto la transizione e anche questo una di quelle realtà a cui non avevo pensato che non conoscevo così letto da questa anche nella foto successiva non lo so a me mettono una malinconia queste foto tutto il progetto lo trovo così dannatamente malinconico ma forse perché non vorrei leggerci farci della sovralettura e leggerci la malinconia di chi avrebbe voluto e non ha più la posizione però è un progetto che mi dà veramente che mi emoziona molto sì e qui volevo fare una domanda ovvio che per capire al 100% una foto del genere devi andare un po' a spulciarti appunto a capire il progetto che ci sta alle spalle perché giustamente tu hai messo questa su Instagram probabilmente nessuno ha capito il contesto è chiaro giusto e quindi la mia domanda è questo tipo di foto posso che ok adesso ne stiamo parlando stanno aprendo immaginari molto bassi che magari appunto non immaginavamo neanche qual è però normalmente la fruizione di queste foto cioè dove posso andare a inciampare una foto del genere e quindi arrivare a reperire la storia cioè perché qua non stiamo parlando di brand di pubblicità o stiamo parlando di progetti fotografici giusto certo dunque ci sono innanzitutto dei canali fieristici in Italia c'è Cortona c'è il Photovog Festival in Francia c'è i Rancontre d'Arl che danno ampio spazio a questi ranconti fotografici quindi un buon modo è di frequentare anche solo i siti andare per me alle mostre è un'esperienza bellissima però mi rendo conto che io unisco anche la passione e quindi ci impiego anche dei soldi perché per esempio Arl è parecchio cara come manifestazione esistono delle riviste che sono un collettore e un buon come dire un buon amplificatore per artisti che propongono queste questi lavori quindi il buon algoritmo di Instagram ci viene in aiuto perché per esempio seguendo ID I-D la rivista è una rivista che spessissimo fa i cinque fotografi queer che parlano di questo le cinque fotografi donne che hanno parlato di violenza sessuale è un buon modo per entrare in conoscenza a conoscenza di queste cose io per chiudere il discorso dopo le ultime due foto ecco allora queste due queste non puoi non parlarne so che è la tua preferita non è la mia preferita ma è una foto che mi piace a bomba proprio tantissimo e qui si parla di estetica queer l'estetica queer è quella zona di non conformità in cui le persone decidono di non identificarsi necessariamente o prevalentemente con uno dei due generi biologici quindi maschio o femmina ma mantengono un'identità e una fisicità che può essere fluida qui i pregiudizi si fanno si fanno potenti perché non è una situazione medica come per esempio l'identità di genere di un una persona transessuale è un'espressione di sé e per una persona che banalmente cisgender quindi si identifica nel sesso di appartenenza è difficile immaginare che ci sia qualcuno che non sia transgender ma che non abbia interesse nell'identificarsi nell'uno o nell'altro sesso biologico per me questo lavoro ha anche un valore estetico mi piace molto cioè esteticamente mi piace molto però questo genere di fotografia sta diventando molto molto popolare ok la cultura è una cosa positiva chiaramente sì ok dare voce a delle persone è sempre positivo a maggior ragione quando queste persone prima voce non ce l'avevano per ragioni di repressione non perché non c'era facebook e quindi non riuscivi a scrivere nel gruppo delle mammine pancine e perché hai attraversato un periodo di repressione tra l'altro ci sono dei reportage questo è chiaramente un set allestito che racconta la cultura queer si cazzi se diventa commerciale o commercializzabile questo tipo di immaginario o deve rimanere attraversato lo è già eh dico rimane rimane valido anche se si diventa talmente pop da diventare commercializzabile come si dice allora per me è il perché no ok anche secondo me nel senso che non nasce per quello lo diventa va bene nel senso che se un brand utilizza un'immagine queer e comunque c'è già c'è già ci sono brand che utilizzano modelle e modelli transessuali e così via perché no cioè lo strumentalizzano è possibile ma ne parliamo nella prossima puntata mentre invece per come insomma compito a casa si può dire come per chi ha voglia di approfondire è nata da poco questa rivista che a me piace tantissimo si chiama Fluid non li conoscevi c'è sia su Instagram e sul sito su Instagram è fluid trattino book e è una rivista sulla bellezza fluida non sulla identità genere eccetera ma solo sulla bellezza fluida e fa e propone dei lavori di fotografi artisti designer che non hanno il limite della bellezza canonica della bellezza socialmente accettabile e secondo me è un bel lavoro e un propongono davvero dei lavori interessanti a me piace tanto bene andrò a spulciarmela sicuramente ok direi che è presente quanto abbiamo fatto siamo già cittadini lo vedo lo vedo lo vedo deve essere mezz'ora però come vedete il il tema è bello ampio per questo abbiamo deciso anche di dedicare una seconda puntata e un po' come avete intercettato già dai nostri discorsi diverso un pochettino il discorso cambia quando si sposta questo immaginario fotografico nel mondo della pubblicità e del brand perché anche se non lo vogliamo comunque la pubblicità è responsabile un po' della cultura che ci circonda e quindi andare a intaccare quelli che sono gli standard nella pubblicità ha comunque e sta comunque influenzando l'immaginario visivo della maggior parte delle persone quindi la prossima volta dedichiamo a questa analisi di lettura partendo da le foto quelle un po' più famose per me ad esempio la più rappresentativa è stata quella della DAV per te mi sembra quella dell'Adidas forse sì ma ce ne sono in realtà ce ne sono tante nel senso che tutto il tema della body positivity senza essere chiamato body positivity viene utilizzato barra sfruttato vediamo un po' come volgerà la 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 chiacchierata per vendere servizi o prodotti e e chiaramente c'è chi pensa che non sia etico questo perché in un movimento puramente ideologico non dovrebbe comunque essere al servizio di del denaro no sì certo secondo me sì sì nel senso che alla fine il racismo lo si sconfigge anche facendo vedere la modella di colore in copertina o rappresentando la famiglia del mulino bianco con la mamma non necessariamente bionda e caucasica sono d'accordo il processo pop di normalizzazione se mai fosse l'obiettivo è vero perché poi non si sa non si sa se è quello l'obiettivo è vero la nostra speranza è ottimissima sì se esiste il processo di menefreghizzazione io lo preferirei cioè arrivare al ebbe questi gazzi questi gazzi esatto c'è la famiglia con e tra l'altro non c'entra niente lo dicono per chi ha figli e Netflix contemporaneamente ma credo che sia fate vedere il principe dei draghi è un cartone che io ho divorato in due giorni io non ho mai visto un cartone così inclusivo ok figo è straordinario e anche Shira la nuova versione delle princesse guerriere mai visti cartoni che abbiano dell'inclusività e magari non siete vecchi come me ma Shira era sostanzialmente delle Barbie che facevano magia invece nella nuova serie sono rappresentati orientamenti sessuali fisicità problematiche rispetto al sono magra sono rotondetta e così via e dei draghi due serie meravigliose bella storia tra l'altro anche fruibile dalla tua sceneggiatura fine pubblicità Netflix e niente questo ci vediamo la prossima la prossima volta io sto vedendo adesso che tu ti chiami Aldo Giarelli giustamente e io non ci ho fatto caso ho messo Tinetta e Passa ma tu sei un brand c'è neanche il nome di Instagram che è Tinetta Turner no niente Tinetta che non è nessuno io sono Francesca Infantino non siamo di Sniard ma siamo dentro Pan Gamba niente capiremo che forma dare questo format fateci sapere se vi è piaciuto cosa volete vorreste trovare e alla prossima puntata va bene grazie mille Francesca ciao 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 ciao